Grazie a tutti, è Daniele Codatto per GF Science TV. Siamo qui nel GF Forum Salzburg, Austria e è un piacere per me di interviare il professor Rama Subrahmanyan della Università di New York. Quindi voglio chiederti al professor Rama Subrahmanyan che potrebbe essere il futuro della GF Science e la partecipazione. E un'altra cosa che hai detto, è che ora tutti sono un esperto GIS. È vero o dobbiamo fare un esperto GIS? Prima di tutto, grazie. È un piacere di parlare con te oggi. So, il futuro di partecipazione pubblica in GF Science. La maggior partecipazione pubblica è probabilmente lo che è pubblico in GF. ed è un'attività pubblica in GF. Il futuro di partecipazione pubblica sarà brillante solo se questa attività pubblica è collegata al progetto della democrazia. e quindi non è sufficiente per attivare il pubblico in usare GF, ma abbiamo bisogno di pensare critiche sui quali le loro decisioni sono utilizzate. E quindi il futuro di PPGIS è vero. Ma se non facciamo questo, possiamo facilmente manipulare le persone, il pubblico ogni giorno, e creare le cose male. E quindi questo è quello che sto cercando di convegare. La partecipazione pubblica deve essere collegata con la pensazione critica e l'educazione e per proseguire il progetto della democrazia. E poi la prossima domanda, la prossima domanda, è tutti gli esperti di essere un esperto GIS? La risposta è che quando hai un smartphone, hai potere. Hai più potere che le persone avevano in computer desktop 10 anni fa. Quindi in questo senso, tutti sono un esperto GIS perché possono risolvere problemi per loro. Non bisogna di te. Quindi, cosa facciano GF? Le hanno bisogno di pensare più avanti problemi. Quindi c'è ovviamente un ruolo per GF, ma non è in un livello quotidiano. è per pensare criticamente e aiutare il pubblico a risolvere problemi complessi, non problemi semplici. Quindi devi studiare più, per avere un lavoro nel futuro. Sì, perché devi studiare diversi tipi di scegliere. E la più importante scegliere che un professionista GIS può avere è la capacità di comunicare. Ah, ok, sì. Comunicare cosa stanno facendo e perché è importante per altre persone. Ok. E questa è una forma di comunicazione, questa intervista. Grazie molto, e ci vediamo ancora. Ho spero. Grazie. 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 Grazie molto. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.